Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo da Catania, spaccio di sostanze stupefacenti, l'intervento degli agenti della Polizia di Stato ha portato all'arresto di due giovani pusher, si tratta di due ventenni ma per tutti i dettagli. Vediamo il servizio. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania hanno tratto in arresto due ventenni catanesi per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico durante i regolari servizi di controllo del territorio transitando per via del Principe i poliziotti hanno effettuato il controllo di una vettura con a bordo due persone. Durante le prime fasi del controllo sono stati rinvenuti dentro una busta di plastica oltre 16 grammi di marijuana e oltre 4 grammi di cocaina sostanze divise in dosi. A quel punto i due giovani sono stati sottoposti a perquisizione personale che ha consentito di recuperare addosso a uno dei due marijuana per un peso complessivo di 9,41 grammi mentre addosso all'altro soggetto altra marijuana in questo caso per un peso totale di oltre 8 grammi. La perquisizione è stata poi estesa al domicilio di uno dei due sempre in via Principe dove è stata rinvenuta una pistola calibro 8 con matricola a brasa presumibilmente modificata e priva di tappo rosso, una cartuccia calibro 7,62, una busta con oltre 81 grammi di marijuana, un'ulteriore busta con oltre 7 grammi di marijuana e 3,36 grammi di cocaina. I due giovani sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il pubblico ministero di turno immediatamente informato ha disposto di sottoporre entrambi agli arresti domiciliari in attesa della convalida innanzi al GIP. Da Catania a Messina dove gli agenti della Polizia di Stato hanno invece sorpreso tre soggetti all'interno di una capannone mentre rubavano rame e altro materiale ferroso. Ovviamente per i tre malviventi sono scattate le manette. Vediamo il servizio. Prosegue il controllo del territorio da parte della Polizia di Stato. Gli agenti della Polizia Ferroviaria e delle volanti della Questura di Messina hanno tratto in arresto tre soggetti impegnati a rubare rame ed altro materiale ferroso da un capannone sito nella zona sud della città. All'arrivo dei poliziotti la porta carraia del magazzino era stata completamente divelta e i tre malviventi, due catanesi e un messinese, rispettivamente di 40, 50 e 51 anni, erano impegnati a caricare materiale ferroso su un camion all'interno del quale erano stati già collocati un pianale di grandi dimensioni e altre su pellettili. Gli agenti hanno pertanto proceduto congiuntamente all'arresto in flagranza di reato dei tre soggetti successivamente convalidato dall'autorità giudiziaria. Contestualmente tutto il materiale sottratto illegalmente è stato riconsegnato all'avente diritto, mentre il camion sul quale gli arrestati sono stati sorpresi a caricare il materiale ferroso è stato posto sotto sequestro. Un trentenne invece finito in manette a Scicli nel Ragusano, arrestato dai carabinieri per aver maltrattato e poi aggredito e picchiato la propria madre. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. I carabinieri di Scicli hanno tratto in arresto un trentenne straniero ma residente nella città barocca per il reato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo infatti nel corso del tempo ha assunto atteggiamenti violenti e minacciosi nei confronti della madre che hanno raggiunto l'apice con la violenza perpetrata nei giorni scorsi. Il trentenne infatti in evidente stato di alterazione psicofisica ha aggredito fisicamente la donna causandole delle lesioni. Inoltre ha costretto i carabinieri a forzare la porta d'ingresso per avere accesso all'interno dell'abitazione. Nonostante il tentativo di ostacolarne l'ingresso, i militari, sentite le urla della donna, hanno prontamente agito bloccando il soggetto che si era scagliato contro di loro con spintoni e cercando la colluttazione. È stata quindi informata l'autorità giudiziaria che ha disposto l'arresto del trentenne e il suo accompagnamento presso la casa circondariale di Ragusa. Cambiamo argomento, parliamo di sanità in Sicilia. Le famiglie siciliane sono praticamente a un bivio, devono infatti scegliere se attendere tantissimo, attendere mesi oppure pagare di tasca propria per cure mediche ed esami. In Sicilia curarsi sta diventando un privilegio riservato soltanto a chi può permettersi di pagare esami e cure mediche senza quindi dover aspettare mesi prima di sottoporsi ad un controllo in ospedale. D'altronde, come già evidenziato dall'ultimo report della Fondazione Gimbe, la percentuale di famiglie che rinuncia a curarsi per mantenere le spese dei propri figli è in crescita. Nell'isola, infatti, la spesa sanitaria grava sul bilancio familiare più che in altre regioni d'Italia. Complessivamente, in Sicilia, la spesa annuale delle famiglie per la salute nel 2022 è stata pari a 1.219,80 euro, facendo registrare così un aumento dell'8,1% rispetto al 2021, con una percentuale delle famiglie che hanno rinunciato alle prestazioni sanitarie nel 2022 pari al 7,2%. Si può dunque stimare la spesa sanitaria oggi a carico di una famiglia che mediamente si attesta intorno al centinaio di euro al mese, raggiungendo quindi circa 1.200 euro ogni anno. Notizia da Mascali nella Catanese. Un importante progetto si tratta del restauro dell'oratorio di San Leonardo Abate, come detto a Mascali, struttura che necessita di manutenzione. Finanziamento grazie anche all'8x1000. Vediamo tutti i dettagli nel servizio. La Curia diocesana ha annunciato l'arrivo di finanziamenti dall'8x1000 alla Chiesa Cattolica per il restauro dell'oratorio della parrocchia San Leonardo Abate di Mascali, un importante patrimonio non solo della comunità ma anche della città. Grazie alla generosa collaborazione dei contribuenti che hanno destinato l'8x1000, l'oratorio di San Giovanni Bosco usufruirà di una somma pari a circa 150.000 euro, 70% dall'8x1000 e il 30% dal fondo parrocchiale, in quanto necessita di interventi di manutenzione straordinaria. Il progetto prevede il rifacimento dei prospetti esterni dell'edificio con regolamentazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, le coperture, gli infissi e le impermeabilizzazioni. La consegna dei lavori alla ditta è avvenuta nei locali della Curia alla presenza del vicario generale Monsignor Agostino Russo, del direttore dei beni culturali ecclesiastici Don Angelo Milone e del parroco Don Rosario Di Bella. Il nostro oratorio, ha dichiarato il parroco, è un'icona di fede e storia locale. Questo finanziamento, ha aggiunto, permetterà di preservare e valorizzare ulteriormente questo luogo, garantendo ai tanti giovani e alle generazioni future la possibilità di avere un luogo di ritrovo per la preghiera, la spiritualità, lo svago e la cultura. Nel ringraziare il vescovo Raspanti per aver seguito l'iter burocratico, Don Angelo Milone ha affermato. Il finanziamento dell'otto per mille testimonia ancora una volta la solidarietà e l'impegno nel preservare il nostro patrimonio culturale e religioso. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo importante progetto. L'intervento edilizio, autorizzato dal Comune di Mascali, sarà ultimato entro l'anno 2025. Bonus asilo nido, vediamo quali sono le novità del 2024 e quali sono poi i requisiti per poter accedere a questo beneficio. È ancora possibile presentare la domanda all'Inps al fine di usufruire del bonus asilo nido 2024. La misura prevede un sostegno economico utile ad affrontare il pagamento delle rette degli istituti pubblici e privati, ma anche l'assistenza a domicilio. Secondo le stime, nel 2024 saranno circa 300.000 le famiglie che potranno beneficiare di questa agevolazione. Ma per il 2024 sono state aggiunte delle novità a questo sussidio. Maggiorazione per famiglie con due figli, fino a 3.600 euro per chi ha un figlio nato dal 1 gennaio 2024 e un altro figlio minore di 10 anni e i 6 fino a 40.000 euro. Per poter presentare la domanda basterà collegarsi al sito web dell'Inps accedendo con uno dei diversi metodi disponibili, chiamare il Contact Center Inps o rivolgersi anche al proprio CAF di fiducia. Complessivamente sono tre le fasce di suddivisione, famiglie con i 6 fino a 25.099 euro, massimo di 3.000 euro percepibili in 10 rate, da 25.001 a 40.000 euro con un massimo di 2.500 euro percepibili in 10 rate e quelle con oltre i 40.000 euro con un massimo di 1.500 euro. Parliamo di turismo, i dati ci dicono che il turismo è in continua crescita in Sicilia anche grazie alle diverse attrazioni che si possono trovare nell'isola, anche di tipo di avventura insomma tra il mare e l'Etna. Vediamo il servizio. L'estate è ormai alle porte e l'Italia si prepara ad un anno da record per il settore turistico. In base ad alcune stime raccolte nelle ultime settimane, i viaggiatori continueranno ad aumentare già dal mese di maggio. Proprio da questi ultimi dati è emersa la tendenza dei viaggiatori di rimanere in Italia. E tra le regioni classificatesi sul podio delle mete preferite c'è anche la Sicilia. Nello specifico la Trinacria si distingue come una regione piena di avventure con molteplici attività per gli amanti dell'adrenalina. Dalle esperienze acquatiche a quelle in montagna, con possibilità di rafting, tabbing, percorsi in fuoristrada e mountain bike e ancora paracadutismo, percorsi di kayak e infine tragitti acrobatici sugli alberi. Per una vacanza avventurosa alla scoperta delle meraviglie sicule tra i mari cristallini e l'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa. Parliamo adesso dell'Alzheimer, una malattia che continua a essere di grande diffusione ed è stata scoperta da un recente studio una nuova forma proprio di questa terribile malattia. Un gruppo di ricercatori guidato dall'Istituto di ricerca biomedica dell'Ospedale della Santa Croce e San Paolo di Barcellona ha scoperto una nuova forma di Alzheimer, legata a una variante del gene Apo e già noto per il ruolo che gioca nell'insorgere di questo disturbo che colpisce milioni di persone ogni anno in tutto il mondo. Gli autori dello studio hanno utilizzato i dati provenienti da quasi 3.300 donatori di cervello e da oltre 10.000 pazienti americani ed europei, tra i quali anche diverse centinaia di persone che presentano la mutazione Apo e4. I risultati indicano che coloro che hanno questa variante per entrambe le copie del gene hanno un rischio molto maggiore di sviluppare l'Alzheimer. Un processo degenerativo che distrugge lentamente progressivamente le cellule del cervello e che si manifesta inizialmente con lievi difficoltà a ricordare e perdita delle capacità intellettive. Non esiste un farmaco in grado di prevenire o guarire la malattia ma quest'ultima ricerca dimostra l'esistenza di una nuova variante che si aggiunge alle altre. Quella esordio precoce che colpisce le persone già tra i 30 e i 60 anni, causata da mutazioni che riguardano i geni AP, PISEN1 e PISEN2 e la malattia tardiva che si presenta di solito dopo i 65 anni ed è legata a varianti di geni diversi. Chiudiamo con una notizia di cronaca da Augusta nel Siracusano dove un uomo è finito in carcere, arrestato dai carabinieri e accusato di diversi reati. I carabinieri della stazione di Augusta hanno tratto in arresto un pregiudicato di 29 anni in esecuzione di un provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dal Tribunale di Siracusa. L'uomo, già sottoposto all'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria poiché gravemente indiziato di lesioni e minacce a operatori sanitari, ha più volte violato la misura in quanto è stato denunciato per tentato furto aggravato, lesioni personali e porto di coltello. Gli uomini dell'arma hanno prontamente segnalato le violazioni all'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento di aggravamento a seguito del quale il 29enne è stato condotto presso il carcere Cavadonna di Siracusa. Per il momento è tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia.